Ma voi veramente pensate che stampiamo moneta come pensava di fare un antifascista al comune di Napoli, un sincero demografico? Voleva stampare, insieme con il varo della flotta partenopea, voleva stampare i talleri. Quando nessuno, nessuno nel centro-destra si accorgeva che venivano presentati al comune di Napoli, i lanci falsi, falsi, ma nessuno ha detto niente. Come siete stati buoni, cari amici, caritatevoli.